Capitolo 4. Prima su e poi giù. C'erano molti sentieri che portavano su per quelle montagne e molti passi da cui valichare. Ma i sentieri si rivelavano per lo più inganni e illusioni che andavano in nessun posto o verso una brutta fine. E i passi erano per lo più infestati da cose malvagie e da tremendi pericoli. I nani e lo hobbit, aiutati dai saggi consigli di Herron e dalla sapiente memoria di Gandalf, presero la strada giusta per il passo giusto. Molti giorni dopo essere usciti dalla valle, lasciata a miglia di distanza l'ultima casa accogliente, ecco che ancora salivano e salivano e salivano. Era un sentiero difficile e insidioso, un cammino tortuoso, solitario e lungo. Voltandosi vedevano le terre che avevano lasciato, distese dietro di loro molto più in basso. Bilbo sapeva che lontano, lontano, a occidente dove tutto era azzurro e sbiadito, c'era il suo paese, di cose tranquille e sicure, con il suo piccolo buco hobbit. Rabbrividì. Lassù il freddo stava diventando più intenso e il vento soffiava gelido tra le rocce. A tratti grossi macigni precipitavano dai fianchi della montagna, staccati dal sole di mezzogiorno che scioglieva la neve, e passavano in mezzo a loro, o sopra la loro testa. Le notti erano inclementi e diacce, ed essi non osavano cantare o parlare ad alta voce, perché l'eco era strana e pareva che il silenzio non volesse interruzioni, tranne per il rumore dell'acqua, il gemito del vento e lo retolarsi delle rocce. Laggiù è estate, pensò Bilbo. E si fa il saffieno, e si fanno merende nei campi. Se continuiamo di questo passo, mieteranno il grano e coglieranno more ancor prima che noi si cominci a scendere dall'altra parte. E i suoi compagni erano assorti nei pensieri altrettanto cupi come lui, benché nel congedarsi da Elrond, al culmine delle speranze di un mattino di mezza estate, avessero parlato con allegria del passaggio di quelle montagne e della rapidità con cui avrebbero raggiunto le terre al di là di esse. Si erano illusi di poter arrivare alla porta segreta sulla montagna solitaria proprio in quella prossima luna nuova d'autunno. E forse sarà il giorno di Durin, avevano detto. Soltanto Gandalf aveva scosso la testa e non aveva detto niente. I nani non facevano quella strada da molti anni, ma Gandalf l'aveva fatta e sapeva quanto il male e il pericolo fossero cresciuti e avessero attecchito nelle terre selvagge, da quando i draghi avevano cacciato gli uomini e gli orchi si erano diffusi di nascosto a tutti dopo la battaglia delle miniere di Moria. Perfino gli ottimi piani degli stregoni e di buoni amici come Elrond a volte falliscono quando si affronta un'avventura pericolosa sul confine delle terre selvagge. E Gandalf era uno stregone abbastanza saggio da saperlo. Egli sapeva che sarebbe potuto accadere qualcosa di imprevisto e non osava nemmeno sperare che avrebbero attraversato senza terribili vicissitudini quelle grandi e alte montagne dalle vette solitarie e quelle valli dove non governava alcun re. E qualcosa accadde infatti. Tutto andò bene finché quando non si imbatterono in un temporale con fulmini e tuoni. O meglio in una battaglia tra fulmini e tuoni. Sapete già quanto possa essere spaventosa una violenta tempesta in pianura o nella vallata di un fiume. Specie certe volte quando due grossi temporali si fronteggiano o cozzano. Ma tuoni e fulmini sono ancora più terribili sulle montagne di notte. Quando le tempeste si levano ad est e da ovest e si fanno guerra. I fulmini si infrangono sulle vette e le rocce tremano e grossi macigni si spaccano fendendo l'aria rotolando e precipitando in ogni grotta e ogni cavità. E il buio è solcato da rumori minacciosi e da luci improvvise. Bilbo non aveva mai visto né immaginato niente di simile. Si trovavano in alto su una strettoia e da un lato un precipizio pauroso scompariva in una valle oscura. Si erano riparati lì per la notte sotto una roccia sporgente ed egli giaceva sotto una coperta tremando dalla testa e i piedi. Quando fece capolino alla luce dei lampi vide che dall'altra parte della valle i giganti di pietra erano usciti all'aperto e giocavano a scagliarsi in un l'altro dei grossi macigni afferrandoli e scaraventandoli nell'oscurità dove si fracassavano tra gli alberi giù in basso o si frantumavano in piccoli pezzi con un'esplosione. Poi vennero vento e pioggia e il vento sbatté pioggia e grandine da ogni direzione così che una roccia sporgente non riparava proprio per niente. Ben presto furono tutti fratici e i poni stavano a testa bassa con la coda fra le gambe e alcuni nitrivano per la paura. Si udivano i giganti sghignazzare e urlare sulle pendici delle montagne. Qui non va bene per niente disse Thorin. Se il vento non ci porta via, la pioggia non ci sommerge o il lampo non ci fulmina saremo presi da qualche gigante che ci tirerà per aria con un calcio come fossimo dei palloni. E allora conosci un posto migliore? Portaci lì, disse Gandalf che era d'umore assai scontroso anche lui ben lontano dal sentirsi tranquillo per quanto riguardava i giganti. La conclusione della loro disputa fu che mandarono fili e chili a cercare un rifugio migliore. I due avevano una vista acutissima ed essendo di una cinquantina d'anni più giovani degli altri nani, di solito era loro che veniva affidato quel tipo di incarico. Se volete trovare qualcosa non c'è niente di meglio che cercare? Così almeno disse Thorin ai due giovani. Certo che di solito qualcosa si trova e si cerca, ma non sempre è qualcosa che si voleva. Così accadde in quella circostanza. Di lì a poco figli e chili tornarono indietro strisciando, aggrappandosi alle rocce per resistere dal vento. Abbiamo trovato una grotta asciutta, dissero. Poco lontano da qui, girato l'angolo, potrebbero entrarci anche i poni. L'avete esplorata fino in fondo? Disse lo stregone, il quale sapeva che raramente in alta montagna le grotte sono disabitate. Sì sì, dissero loro, anche se era chiaro a tutti che non potevano esserci rimasti a lungo. Erano tornati troppo presto. Beh, poco profonda e poco ampia. Questo ovviamente è il pericolo che si corre con le grotte e a volte non si sa mai quanto siano profonde. O dove possa portare un passaggio interno o cosa vi aspetti là dentro. Ma in quel momento le notizie di chili e figli sembravano abbastanza buone. Così si alzarono tutti e si prepararono ad avviarsi. Il vento fischiava e il temporale continuava a ululare. Perciò ebbero il loro da fare per rimettersi in cammino con i poni. Tuttavia la grotta non era molto lontana e in breve giunsero in una grossa roccia ben salda nel mezzo del sentiero. Se si passava dietro di essa, si trovava una volta bassa, aperta nel fianco della montagna. C'era appena posto per farci passare con un po' di fatica i poni, dopo averli liberati del carico e delle selle. Mentre passavano sotto l'arco era bello udire il vento e la pioggia all'esterno, anziché tutto intorno e sentirsi al sicuro dai giganti e dai loro macigni. Ma lo stregone non voleva correre rischi. Accese il suo bastone magico e alla sua luce esplorarono la grotta da un'estremità all'altra. Sembrava abbastanza ampia, ma non troppo vasta e misteriosa. Il suolo era asciutto e c'erano alcuni angolini comodi. A un'estremità c'era posto per i poni che si misero lì, sbuffando e masticando rumorosamente col muso nella sacca del foraggio. Oyn e Gloyn volevano accendere un fuoco sulla soglia per asciugare i vestiti, ma Gandalf non ne volle sapere. Così sparsero per terra gli indumenti bagnati e ne tirarono fuori di asciutti dai loro fagotti. Poi si aggiustarono le coperte, tirarono fuori la pipa e fecero degli anelli di fumo, che Gandalf tramutò in vari colori e spedì a ballare sul soffitto per divertirli. Parlarono e parlarono, dimenticarono la tempesta e discussero di cosa ciascuno avrebbe fatto con la sua parte del tesoro. E così si addormentarono uno dopo l'altro. E quella fu l'ultima volta che si servirono dei poni, dei fagotti, dei bagagli, degli attrezzi e dell'equipaggiamento che avevano portato con sé. Dopotutto quella notte, l'essersi portati dietro il piccolo Bilbo si rivelò un'ottima cosa.